Con le prossime elezioni amministrative Maria Teresa De Bortoli vedrà la fine del suo doppio mandato come prima cittadina di Pedavena. Abbiamo effettuato assieme un bilancio di questa esperienza decennale caratterizzata dal punto di vista ambientale da due grossi eventi. Il nubifragio che colpì il territorio feltrino nell'agosto del 2009 e naturalmente la tempesta di fine ottobre. Abbiamo dovuto rendere il territorio di Pedavena più sicuro dal punto di vista idrogeologico per cui già dal primavera 2010 la realizzazione e soprattutto tutti i soldi dei canoni idrici sono stati utilizzati e non solo quelli proprio per la sistemazione delle zone più a rischio. Ci sono abitazioni anche per quanto riguarda Facena e anche via Anconetta in cui la sistemazione di queste strade è senz'altro un qualcosa di doveroso per le famiglie che ci abitano. D'altra parte la difficoltà di bilancio di reperire i fondi per la sistemazione di queste situazioni. Tra orgogli e rimpianti De Bortoli si augura che il suo successore possa portare a termine i progetti già iniziati dall'amministrazione in carica. I punti più alti di questi dieci anni. Ce ne sono tanti dai mondiali, il parapendio, l'inaugurazione del boscherai, i campi da calcio e il campo da rugby, adesso la preparazione per il giro tappa e il giro Italia e rimpianto, rimpianto magari nel senso che uno quando riesce a ottenere finanziamenti così vorrebbe dopo realizzare le opere ma i tempi del pubblico non sono questi. L'importante credo sia comunque lasciare in eredità parecchi interventi già finanziati e ancora da realizzare.